Ciao a tutti ragazzi e ragazzi qua, sono stati benvenuti in questo nuovo video di minecraft Ma... Mi rimetto la mia armatura E non si nota che non è il mio minecraft perchè io non c'ho ancora tutta sta roba E' da un po' che non ci gioco quindi non mi ricordo Siamo su minecraft e non il nuovo mondo, un vecchio mondo ma sulla playstation 3 Quindi vecchissimo Questa è la meredetta E' troppo grande Ovviamente i miei cagnolini E' molto bella Piccolina ma spaziosa Allora, però se mi sale domino Tan 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 Beh allora vedi, ti passerei a far vedere la mia cosa da fuori La cosa è questa? Non ci noti che la cazzo di una strega? No In metà l'ho rubato la cazzo a una strega Solo che l'ho un po' rimbellita e modificata Al piacimento perchè non è che c'ho tanto voluto meno Poi qua c'è il mio magazzino Pena dirava di tutto quanto c'è nessuno Perfetto Schullikerca Perro Armino Troppe Perro 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 il video dell'ultima volta ha raggiunto i miei piaci e richiesti e avevo fatto una promessa e io la mantengo ho dovuto far vedere il mio mondo di minecraft da ps3 è un po' vecchio ma ancora c'è qua c'erano le cactus le canne da zucchero qua c'erano dove pescavo questo è troppo amico perchè prendo la canne da pesca e metto lui tutto la roba bellissimo tappetino color assurdo ma proprio ora dove va chi è ma che figa vabbè se perder tempo faccio vedere tutto quanto in fretta perchè aiuto in fretta città qua c'era dove c'era il grano tanto grano e qualche melone e una zucca ma quelle per bellezza come accoglio questo grano ma non ci voglia qua c'era la granteria ma tutto il grano è già spostato quindi non è più serve tanto a molto però vabbè salto di parkour ok poi 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 la mia casa sull'albero se ci arrivo se no ma qui di sicuro non è un mondo troppo bello però mi sono andata da fare perchè e' vecchio quindi mi ero dato da fare. E' un po' bellino questo. Tanto invece facciamo un altro, è una schifesa. Questa è la mia casita sull'albero. Da dove si può vedere spoiler intanto. Si vedono le statue dei mob. Si, ho fatto... Eh che che fa fa però. Chi è? Io. Ok non può fare in salto. E' per rompere. si è arrivato ho fatto un bel ponte così con le traptor ma il più sudore la mia statua ci ho messo veramente le mie ore si muore di caldo eeeh non passare da zappa ok qui ci andiamo dopo perchè vi farò vedere un po' cosa c'è laggiù e c'è uno che... c'è tanta gente che lo odia ma non ho bussato? ma non lo so 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 la spalla di fiamma piccola e tormenta fascia a distrutturrice pacca e parasit il palazzo arco della potenza madonna ricordi macchina ecco ciò è stato fatto benissimo non si sa che lo scherzo fatto lo scherzo fatto benissimo con la frecce e l'arco questo l'enderguardian ha fatto benissimo con le armature con dentro, lo scherzo è in diamante ultimamente ciò mucca pecore, maiali, polle e quache crescita questo è la fatica tutto per uccidere santi di quelli di guida e madonna eeeh bobo e tante mucca ma ora qua cosa c'era c'era una lama chiara a questo stupido ok poi c'è osso di ferro chi vuole sassomiglio nevone che lui quest'ultimo strutture diciamo anzioni in spie il no no ma l'aspirazione no no vi rubo altantos ma si è in mezzo, li ho detto 5 volte lo slime è una finestra quella è una finestra il raggio c'è da un altro come c'è qua? non si vede più là è il leader stesso non si vede il creeper fatto bene il leader fatto benissimo ci ci si è morto molto di volte la miseria la miseria nel mondo faccio finta di nulla faccio finta di nulla lì c'è da un altro ampio faccio finta di nulla faccio finta di nulla paparazzi cimitero dove c'è Roberto Trevora, Justin, Berti te non te lo puoi perché peschi quei amici no 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 cimitero si è morto ma no via cimitero ma no via cimitero non è buio nulla, ripassare in mezzo, levati, levati lo stesso, adeleva, mamma però, mamma ma lì che non passa in mezzo, passa in mezzo, un piscatole, lo seguiamo tutto qua, aspetti, tu aspetti, anche se, sali, aspetti, 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 ok, la mia calzetta, bunker, mi vorrei che sia chiudata, mamma non vuole, sto davanti, ok, io c'è troppa roba, nulla, se lo so già che mi arriverà la gente a rubare, come è al solito, hai dormito? bene, vai, bene, patty, se non ti sentite adesso ti tiro una sciata, ti tiro la mia colpa di una spada, colpa della mia spada, ti tiro, vedete? no, ma sì? dove, dove lo faccio, ok? no guarda, è che sono andata a farlo guarda, ti ho fatto effetto? io sì io sì il balcone è fatto benissimo, da casa che ho fatto in mezzo no, mi fa te la faccio in bianco te la faccio vi faccio vedere l'assaggio se vedete perchè in casa mia calma è bellissimo poi la bricolata c'era qua c'è il pollo fatto benissimo qua c'è il nether ma non si è fatto nulla a parte degli scavaggi perchè non si attivano? guarda che bello d'oltre metti eh mi farò un po' vedere qua è molto veloce la capriola ehhh ok di qua eccolo il villaggio ai che madonna quanto non lo sto piando mangi a pannelli ehm no se non sto stacchi qua eh ho fatto un villaggio quello che dismeralda tanto cianella ucciso ucciso adè basta no 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 tu non esisti ok perché perché spiano i creeper co sopra capisco capisco momma devo registrare anch'io eh non mi rifiuto nulla no, è il mio no, neanche, scusa, è il mio è il mio è il mio la mia vecchia casetta ma non lo prendi no, la mia vecchia casetta che ho il villaggio è il mio chiuso perchè c'ho questa protezione dal fuoco 1 e durezza 2 la mia dovrebbe essere e lo vedi che fai vedere il cane? madonna, c'è una botta in testa è fama non passi oh 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 io direi che vi faccio anche vedere tutto stato e volontà aspetta e sta prendendo francesco tu sei uno scemo tu sei uno scemo tu sei uno scemo tu sei uno scemo io direi che il video può anche finire con quanto ormai tutti passano in mezzo che gli pari tanto io direi che il video può anche finire con infatti vedete appunto tornaci giocati del mio villaggio e del mio villaggio disperato io posso anche dirvi un bel ciao 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 ciao